È morto Omar Palermo, lo youtuber che avevamo ritrovato il 42enne di Rossano, star del web con lo pseudonimo Youtubo Anche Io, è deceduto in una casa di cura di Belvedere Marittimo il rossanese Omar Palermo, 42 anni, per lungo tempo una vera star delle rete con lo pseudonimo di Youtubo Anche Io, è morto ieri nella casa di cura Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo. L.O.Youtuber risiedeva nel centro storico di Rossano, ma da più di sei mesi era alle prese con un complesso percorso di riabilitazione dopo un incidente domestico che gli aveva provocato la frattura di una gamba lo scorso gennaio. Un lungo processo di ripresa fisica, reso particolarmente delicato dalla corporatura dell'uomo che pesava oltre 100 kg.Per anni il maestro, così lo chiamavano i fan, era stato assente dal suo canale YouTube da più di 550.000 iscritti, dove pubblicava video che testimoniavano le sue imprese a tavola.Per placare i rumors che si stavano diffondendo tra i suoi seguaci, aveva deciso di diffondere un messaggio sui social. Buongiorno, cari amici followers, come già fatto, sono qui per ribadirvi, che ho deciso di non pubblicare più nuovi video. Scelta spontanea, e senza nessun tipo di problema che riguardi la mia persona. Vi chiederei gentilmente di ricordare quando dicevo che avrei potuto smettere da un momento all'altro, e che non sarei mica stato sul tubo per sempre. Quindi, rassicurandovi, vi invito a non continuare più a scrivere falsità sul mio conto, e, soprattutto, a stare sereni. Grazie. Io utubo anche io un suo estimatore, il siciliano Giorgio Sciacca, youtuber anche egli, si era poi messo sulle sue tracce, venendo a conoscenza dell'incidente. Si era recato prima a Rossano, poi a Cosenza all'ospedale dell'Annunziata, e infine al centro di riabilitazione Madonna della Catena a Laurignano, alle porte del capoluogo Bruzio.il lungo peregrinare tra le strutture riabilitative della provincia si è tristemente concluso a Belvedere, sul Tirreno Cosentino, dove Omare Deciduto.lo stesso Giorgio Sciacca questa mattina ha diffuso un video condividendo con gli altri fan di YouTube anche io la notizia della sua scomparsa. I funerali si terranno domani, venerdì 20 agosto, alle 11 nella chiesa di San Bartolomeo di Rossano.